C'è una forte differenza nelle popolazioni batteriche? C'è questa differenza, i batteri influiscono pesantemente sull'assimilazione e sulla gestione del calcio, della vitamina D, della serotonina, quindi sono tanti i fattori in cui il microbiota entra in relazione con le problematiche osteoporotiche. E che però sono tutti i modelli che noi stiamo portando avanti sui topi, perché purtroppo sugli esseri umani non c'è la possibilità ancora di farlo, soprattutto per mancanza assoluta di fondi, perché non ci sono fondi per studiare sugli esseri umani. E' il futuro sicuramente.